ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale di urbanistica quest'oggi sarà una lezione un pochettino più diversa dal solito perché sarà una lezione un attimino più concisa in quanto andremo a vedere sostanzialmente quelle che sono le differenze tra un documento di delibera e un documento di determina in modo abbastanza superficiale ma senza tralasciare nulla di necessario nulla di troppo importante andremo a vedere oltre concettualmente a che cos'è una delibera e a che cos'è una determina vediamo anche ripeto in modo abbastanza breve e conciso quello che è uno schema di delibera e uno schema di determina ma più che altro la lezione ci servirà a capire che cosa effettivamente è una delibera e cosa effettivamente è una determina allora partiamo da il presupposto che entrambi sono provvedimenti amministrativi provvedimenti amministrativi su cosa sono sono degli atti amministrativi che hanno una valenza e degli effetti immediati verso l'esterno se non immediati comunque adatta da destinarsi ma hanno effetti sull'esterno sappiamo che non ci sono solo atti di questo tipo ma ci sono anche degli atti all'interno usati nella macchina amministrativa all'interno della pubblica amministrazione che sono i cosiddetti atti endoprocedimentali questo qui cosa vuol dire che sono sostanzialmente degli atti che servono alla macchina amministrativa mentre delibere e determine hanno anche un effetto esterno alla macchina amministrativa vediamo nel concetto che cos'è una delibera che cos'è una determina attenzione che determina è anche chiamata determinazione dirigenziale a me è capitato più volte di leggere determinazione dirigenziale che determina ma nulla cambia sono sinonimi noi per comodità la chiameremo determina e la delibera è quel documento che esprime una volontà ok è un diciamo una volontà e quindi è di fatto un un atto collegiale invece la determinazione viene da un dirigente e si tratta di un atto singolo adesso cercherò di fare la parafrasi come si faceva alle quando si studiava al liceo la divina commedia a questa è la parafrasi però anche una parafrasi a quello che ho appena detto partendo però da dei preconcetti molto importanti che sono lo studio degli organi nello specifico l'organo di consiglio e l'organo di giunta e tutti quelli che sono gli uffici tecnici noi sappiamo che c'è il consiglio un ente come può essere una regione o un comune composto da un consiglio e da una giunta il consiglio ha compiti diciamo di indirizzo politico amministrativi mentre la giunta ha compiti proprio di governo vero e proprio effettivo ecco questi due enti emettono un documento che è un provvedimento finale quindi che ha una importanza decisiva verso l'esterno che è una delibera gli uffici tecnici invece io per comodità li ho chiamati ragazzi uffici tecnici ma è molto vago come concetto più che uffici tecnici si potrebbero anche definire semplicemente dirigente del settore urbanistica dirigente del settore anagrafe dirigente del settore del personale stiamo parlando comunque di tutti quegli organi di gestione della macchina amministrativa che hanno delle relative competenze tecniche un dirigente amministrativo avrà delle competenze specifiche in economia e finanza e un dirigente tecnico avrà delle competenze tecniche in architettura e in ingegneria o gestione della pianificazione ecco tutti quei diciamo elementi tutti quegli uffici di gestione chiamiamoli così per semplificare i minimi termini come tutte le mie lezioni che non siamo qua pavoneggiati ma siamo qua per fare in modo che tutti possano capire effettivamente la materia ecco sono delle determine tutti quei documenti che vengono che si possono definire appunto documenti tecnici quindi andiamo a vedere la differenza sostanziale che è quello che stiamo facendo praticamente da inizio lezione da una delibera e una determina vediamo gli elementi della delibera una volta che abbiamo visto che appunto è un atto collegiale che viene da due o da organi collegiali e non da organi invece tecnici quindi di fatto è un atto politico amministrativo no governativo una delibera per prima cosa è necessario dire che una delibera la possiamo trovare sia in ambito pubblico sia in ambito privato ambito privato l'esempio classico sono le assemblee di condominio per esempio dopodiché cosa sono le delibere le delibere esprimono la volontà di una pluralità di soggetti tra l'altro a ben vedere questa volontà e questa pluralità di soggetti si esprime ancora prima con le elezioni comunali o regionali e in precedenza prima che venissero abolite le politiche provinciali appunto di una pluralità di soggetti che è la cittadinanza la cittadinanza attiva quindi diciamo la delibera che possa essere nel consiglio di un consiglio d'amministrazione comunale o che sia di un'assemblea condominiale esprime quella che è una volontà e una pluralità di soggetti e che cosa c'è ancora da aggiungere importantissimo che la determinante di una delibera è il risultato da ciò che avviene durante una adunata o una seduta cosa cosa voglio dire quando dico così è che questa volontà espressa da più soggetti in che modo la esprimono ai minimi termini ragazzi lo dico per farvi capire a voi con una riunione che possa essere del condominio o del consiglio più soggetti che si incontrano e con argomenti specifici appunto esprimono una volontà esprimono una decisione nella delibera infatti viene espressa una decisione discussa e questa discussione da che cos'è preceduta innanzitutto questa discussione va organizzata perché più soggetti si devono radunare ok quindi anche l'assemblea condominiale se vivete in condominio sapete che non vi potete presentare singolarmente ma vi viene consegnata una lettera con una data da rispettare che è la convocazione quindi a questa convocazione è anche allegato un odg tranquilli odg non è una parolaccia ma è ordine del giorno quest'ordine del giorno può contenere anche una serie di pareri tecnici giustamente prima di affrontare appunto un ordine del giorno è necessario casomai essere a conoscenza di determinati risvolti tecnici questi risvolti tecnici sono considerati dei pareri sono allegati quando c'è la convocazione se c'è necessità di pareri tecnici sono allegati mettiamo per esempio rimaniamo su una convocazione a una assemblea condominiale che è più semplice come esempio un po' più terra a terra e bisogna da tempo rifare sostituire delle tegole di un condominio all'ordine del giorno nella convocazione viene anche allegato un documento di un professionista che ne so per esempio potrebbe essere un preventivo o un perito tecnico che descrive quella che è la situazione no e poi vi è una fase abbiamo detto che è necessaria nella delibera quindi c'è una convocazione di più soggetti i soggetti si incontrano e la volontà viene espressa con un quorum ovvero le decisioni che vengono prese che poi vengono espresse nella delibera come provvedimento finale sono discusse e vengono approvate con un quorum che può essere il 50% più uno o due terzi ci sono varie modalità sicuramente comunque si sta parlando della maggioranza vediamo invece quelle che sono le determini adesso poi le vedremo uno schema ma prima è importante capire che cos'è una delibera e cos'è una determina allora la determina è una dichiarazione di intenti di un'amministrazione che si impegna verso l'esterno in altre parole mentre ciò che esce dalla delibera è la mente ok la determina e le determini sono il braccio deliberamente determina braccio cioè l'impegno verso l'esterno vuol dire che un'amministrazione sta effettivamente portando a termine quello che viene espresso nelle delibera chi fa una determina non è una pluralità di soggetti ma è un funzionario di uno specifico ambito quindi con delle specifiche qualificazioni tecniche e non esprime la volontà di soggetti ma esprime quella che è la volontà espressa negli strumenti di programmazione ovvero un funzionario tecnico o un ufficio tecnico comunale non decide a proprio piacimento che spese fare e che obiettivi deve raggiungere ma gli obiettivi sono già stati stabiliti in una fase decisionale precedente antecedente quindi una volta stabiliti gli obiettivi i contenuti delle determine saranno inseriti nei vari e questa qui farò assolutamente una lezione ad hoc sugli strumenti di programmazione cosa sono questi strumenti di programmazione? sono il documento unico di programmazione, il bilancio di previsione e il PEG che è il piano esecutivo di gestione quindi sostanzialmente che cosa abbiamo? abbiamo da una parte la delibera che è la mente e la determina che è il braccio noi nella mia materia personalmente essendo iscritto all'albero degli architetti nella mia materia conta molto di più saper redigere una determina più che una delibera poi per carità ho qua qualche foglio dove c'è anche qualche esame dove viene anche quindi attenzione se qualcuno mi sta ascoltando per gli esami in una pubblica amministrazione occhio che viene chiesta anche agli esami la deliberazione ed è casomai necessario o perché no può essere anche utile e importante appunto in sede d'esame se viene chiesto di redigere una delibera o una determina spiegare velocemente quella che è la principale differenza ovvero da una parte abbiamo un atto collegiale e dall'altra parte un atto singolo con funzioni abbiamo visto completamente differenti uno faccio un brevissimo recap solamente per dire uno di funzione d'amministrazione politica l'altra invece proprio di gestione è un atto di gestione quindi vediamo velocemente com'è strutturata la delibera la leggiamo insieme giusto per capire proprio anche quali sono i contenuti io dico non stiamo a diventare matti perché vi assicuro che ogni ente ha delle impostazioni differenti io vi dico partiamo da quelle che sono le macro aree chiamiamole così macro settori di una delibera che sono il primo il frontespizio vediamo c'è un'intestazione ecco questa lezione qua in questo momento non può più servire come podcast ma va per forza visto almeno lo consiglio vivamente perché andremo proprio a leggere quello che c'è scritto su questa slide prendendo come vedete una delibera del comune di Cremona abbiamo un'intestazione poi abbiamo una denominazione con un numero di protocollo ecco delibere e determine si trovano tranquillamente sui siti istituzionali di un determinato ente sono obbligati a caricarle dopo 8 giorni abbiamo quindi poi un abbiamo visto no un frontespizio e quindi stiamo vedendo diciamo la fase iniziale la parte iniziale di una delibera e poi abbiamo l'oggetto andiamo a leggerne lo specifico che cos'è questo oggetto approvazione del progetto definitivo di un ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di nuove corsie ciclabili quindi che cosa decide la giunta è il consiglio di approvare un progetto quindi si ha già in mano un progetto di un ampliamento di una nuova vista ciclabile quindi la delibera vedete è di approvare è segnato qua il progetto definitivo quindi se dobbiamo redigere noi sappiamo che c'è un'intestazione poi c'è un'approvazione del progetto definitivo ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili delibera che cosa approvazione di questo progetto e di dichiarare appunto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ok quindi concettualmente molto importante è nell'oggetto capire qual è l'elemento principale e deliberarne l'approvazione dopodiché ci sono volendo anche l'oggetto viene riscritto l'oggetto in maniera un pochettino più approfondita l'abbiamo appena visto dicendo anche quale quale ufficio tecnico se ne occupa tipo servizio viabilità suolo e sottosuolo protezione civile illuminazione e così via e poi abbiamo quello che è non siamo più scusatemi nel frontespizio quindi nel frontespizio c'è solo intestazione denominazione e l'oggetto principale senza troppi dettagli poi entriamo nella fase di proposta la fase di proposta ha l'oggetto un pochettino più approfondito ma ripeto varia l'amministrazione non prendete questa delibera come se fosse la sacra sindone prendetela come una delle tante dove ci interessa più che altro come è strutturata quello che sono le linee del contenuto dove abbiamo visto c'è una prima parte dove viene detto che verranno approvati in questa delibera dei progetti di una pista ciclabile c'è un preambolo dove vengono inserite determinate premesse tra cui vediamo le premesse cosa vuol dire la premessa vuol dire visto che visto questo tenendo conto di questo tenendo conto di quest'altro quindi leggiamole così le premesse tenendo conto di una deliberazione del consiglio comunale che affida a una società che si chiama AEM Cremona un house providing il servizio di viabilità ciclabile visto che c'è un decreto del ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili in tal data tenendo conto che c'è una determina dirigenziale che appunto diceva alla AEM di Cremona di occuparsi di questo premettendo che vi è una determina dirigenziale del 2022 e una del 2021 che si occupa di determinate cose tenendo conto questi qui sono i verbi premettendo che visto che in data tal dei tali adesso non c'è scritta qua non riesco a definirla viene consegnata al comune di Cremona un progetto definitivo delle opere in oggetto quindi è importantissimo il preambolo dove vengono viste vecchie delibere vengono viste le leggi in corso ok si passa a quella che è la motivazione piccolo trucco la motivazione non va a rispondere alla domanda perché ok non cascateci la motivazione non è perché la motivazione è un po' quello che è lo stato di fatto invece dove andiamo nello specifico a vedere vengono semplicemente un po' spiegati quelli che saranno gli interventi previsti in questo programma definitivo potete leggere se state leggendo adeguamento dell'itinerario ciclabile allargamento di due metri e mezzo e sproprio di una determinata area cioè nella motivazione in questo caso viene detto ok ragazzi abbiamo visto che nel frontespizio diceva c'è un oggetto di approvare un progetto definitivo di una nuova pista ciclabile nel preambolo quindi siamo già nella fase di proposta cioè tutte le premesse nel preambolo viene detto che documenti si stanno seguendo nella motivazione invece ti dice qual è effettivamente il contenuto di questa di questo progetto definitivo andiamo avanti con l'ultimo pezzettino della nostra delibera che è il deliberato quindi ricordarsi che quando sentiamo parlare di delibera nel nostro cervello deve scattare un automatismo no? come quando tocchiamo una pentola che scotta automaticamente la nostra mano il nostro cervello superreattivo ci fa spostare la mano ecco quando sentiamo parlare di delibera il nostro cervello automaticamente deve farci venire in mente tre pilastri la prima parte il frontespizio la seconda parte la parte centrale la più corposa che è quella di proposta che si conclude con una terza e ultima parte che è l'essenza della delibera ovvero il deliberato semplicemente in due righe cosa vi è scritto ho fatto copia e incolla e questa qui è la totalità della delibera vi ho messo la totalità della delibera comunale approvare il progetto definitivo relativo delle opere affidandolo alla AEM Cremona SPA con gli elaborati indicati nell'allegato come vedete è di una facilità sconcertante bisogna un attimino far passare le delibere col setaccio capire quali sono le informazioni più importanti quelle un pochettino meno importanti e capirne quella che è l'essenza andiamo invece adesso a vedere una determina sempre del comune di Cremona sempre molto recenti in questo caso stiamo quindi rivedendo un frontespizio di una determina ok tengo così così se lo vediamo bene o male la parte iniziale del frontespizio sono tutti uguali dove c'è un'intestazione c'è un titolo dell'atto ci sono i numeri di protocollo e c'è sempre l'oggetto che si potrebbe definire quasi il titolo un pochettino è importante ricordiamoci la data 3 gennaio 2023 perché poi si capisce proprio l'essenza di questa determinazione quindi abbiamo visto scusatemi che nella delibera è stata presa una decisione vediamo invece che funziona la la determinazione allora oggetto lavori di recupero e restauro conservativo del delle crociere di Ponente Levante presso il cimitero monumentale di Cremona affidata alla ditta dal dei tali concessione proroga del termine l'ultimazione dei lavori quindi sappiamo che questo il contenuto di questa determinazione è una concessione di proroga di che cosa dei lavori di restauro del cimitero di Cremona potevo prendere un esempio più allegro è il primo che mi è capitato e prendiamoci quello che è che alla fine è parte della nostra quotidianità anche il cimitero e o almeno la quotidianità dei tecnici comunali allora mentre la parte centrale della delibera viene definita proposta la fase centrale della determina viene definita il determinato mentre poi vedremo la fase finale della delibera è il deliberato e invece la fase finale centrale della determina viene definita il determinato quindi sostanzialmente mentre la la delibera si può dividere in tre macro parti frontespizio proposta e deliberato invece la determina si divide semplicemente in due parti frontespizio e il determinato che è la parte centrale e finale vediamo quelle che sono le premesse ovvero il preambolo cioè il visto che quando leggete premesse quando leggete preambolo l'ho già detto venti volte in questa lezione leggete l'acron visto che dato che dal momento che quindi dal momento che esiste una determinazione dirigenziale attenzione determinazione dirigenziale del 23 agosto del 22 che approvava le opere in corso dava il via alle opere in corso all'azienda dal dei tali visto che vi è un contratto del 20 ottobre del 22 e vi è siamo al punto 3 una richiesta di proroga in data 5 dicembre del 22 dato che vi è un parere espresso dal responsabile unico del procedimento direttore dei lavori che stabilisce la data di ultimazione al 3 febbraio del 2023 determina dopo facciamo la parafrasi di tutto la concessione di una proroga senza maggior costo o onere cosa succede ragazzi qua questa determinazione dirigenziale dice una ditta che si chiama Pinco Pallino doveva finire i lavori di restauro e di rinnovamento entro entro adesso ve lo dico il 5 dicembre del 2022 ok fissata la data il 5 dicembre 2022 quindi questa azienda qua che si chiama Pinco Pallino doveva finire i lavori iniziati il 20 di ottobre doveva finirli a inizio dicembre cosa è successo hanno avuto dei problemi evidentemente non so di che natura non è neanche precisato qua in questa determinazione non c'è scritto in questa determina non c'è scritto casomai in altre determini e lo scrivono nella nella motivazione no in questo caso non è specificato ma sta di fatto che il 5 dicembre 2022 questa compagnia di lavori la Pinco Pallino dice ragazzi vi posso chiedere una proroga di 60 giorni la risposta è affermativa solo ovviamente se non vengono aggiunti delle spese da parte per la pubblica amministrazione si vede che dalla parte del torto se così si può definire o in errore non è la pubblica amministrazione ma è la è l'operatore economico che sta facendo quei determinati lavori e quindi chiedono una proroga e la pubblica amministrazione dà il via libera e appunto dà il via libera e dà la possibilità di proroga dei lavori quindi velocissimamente mi metto in centro solo per dire abbiamo visto quella che è una delibera e quella che è una determina vanno imparate bene o male come vi ho detto io tenendo conto di questi macro macro punti e bisogna anche tenere conto di quella che è la funzione abbiamo visto la delibera ha uno scopo decisionale invece la determina ha uno scopo dirigenziale scusatemi non dirigenziale ovvio è una determina dirigenziale ma ha uno scopo gestionale una è la mente l'altra è il braccio attenzione che come ripetuto ci sono tantissimi esami tantissimi concorsi che chiedono il candidato rediga uno schema di deliberazione di giunta comunale oppure il candidato predisponga lo schema di determinazione dirigenziale prendete pure gli schemi che vi ho mostrato io adesso frontespizio la parte centrale quindi deliberato frontespizio e la determinazione un saluto e grazie per l'attenzione e grazie per l'attenzione e grazie per l'attenzione